Con la sua proposta di legge il BES dovrebbe essere una misura delle politiche pubbliche, come dovrebbe funzionare in pratica e gli indicatori dove entreranno nel leader delle leggi? Dove entreranno dipenderà da se riusciremo a convincere, questo passaggio qui in Istat è importante, se riusciremo a convincere i gruppi parlamentari. Siamo alla vigilia della riforma più importante del bilancio dello Stato, questa legge di stabilità su cui il Parlamento sta lavorando in questi giorni va in pensione definitivamente con questa approvazione e dal 1 gennaio 2017 gli italiani avranno un nuovo bilancio dello Stato, più agile, più snello, più moderno. Il lavoro fatto in questi 7-8 anni, dalla 196 del 2009 fino ad oggi, è un lavoro che ha portato molti di noi a convincersi sui temi tradizionalmente di finanza pubblica, economici e contabili. Gli accertamenti saranno simili alle riscossioni, la cassa alla competenza, tutto questo va benissimo, spero, auspico che non ci siano più clausole salvaguardie, tutto questo va benissimo, ma non è sufficiente. serve è raccontare anche agli italiani se la qualità della vita è migliorata, se ci sono più o meno italiani in una condizione di benessere che significa stato di salute, significa cultura, significa condizioni delle famiglie. Il lavoro che è stato fatto dal Presidente dell'Istat, da alcuni colleghi come Giulio Marcon che si batte danni su questi aspetti io penso che sia sufficiente per consentire al Parlamento italiano di inserire nell'ambito della riforma del bilancio che inevitabilmente approveremo nella prima metà del 2016, indicatori che segnano una discontinuità non tanto dal PIL, non è tanto per parafrasare Bob Kennedy 47 anni fa, ma semplicemente una condizione oggettiva del mondo moderno. vorrei che si misurasse la qualità della vita di un paese, non solo da se cresce il portafoglio industriale di un settore, il portafoglio dell'industria di un settore, ma se la gente vive meglio e se i bambini crescono in un contesto migliore. È la sfida che abbiamo di fronte e speriamo di vincere tutti insieme. Grazie.